La situazione del Mar Rosso appunto inevitabilmente impatta su quello che è il traffico delle navi mercantili sul canale di Suez, adesso si sta circunnavigando l'Africa per evitare quel canale, c'è stata una riduzione di circa il 40% pensate dei passaggi, allora cosa succede? Che in queste ore l'Italia e Francia stanno cercando di lavorare proprio a quella che definisco una missione europea, anche perché la situazione nei porti italiani è questa, un caso paradigmatico Genove, facciamo vedere cosa succede. Pensiamo che un contenitore, un trasporto in contenitore da 1000 euro è passato a 5000 euro nell'arco di 4 settimane e le previsioni sono quelle di arrivare probabilmente a 10.000 nel prossimo mese di febbraio. Trasportare merci via mare a causa della crisi di Suez è diventato molto più costoso e, come spiega Giampaolo Botta, direttore generale degli spedizionieri di Genova, le previsioni non sono rose, anche perché, se la situazione si protrarrà, avrà riflessi sulle imprese, sull'inflazione e sull'organizzazione stessa dei trasporti, a danno degli scali mediterranei. Ci troviamo davanti all'innalzamento dei costi del trasporto legati alla scelta di molte compagnie armatoriali di circunnavigare il capo di buona speranza. Quindi avremo da un lato un aumento dei costi della logistica, ma anche una complessità, una difficoltà del mondo dell'industria di riprogrammare la propria produzione. Ad oggi il trasporto via terra o via ferrovia dei porti di Nord Europa fino in Italia può essere più celere di quello legato a uno sbarco in Italia, in un porto italiano, che magari segue di 4-5 giorni la riva della Sessana di Nord Europa. Ad aggravare la situazione anche il particolare momento del trasporto marittimo. Lo scorso anno, infatti, i traffici erano calati e quindi alcune compagnie avevano bloccato parte delle loro flotte. La scelta delle compagnie è stata quella di ridurre Naviglio. Oggi abbiamo anche questa emergenza, meno navi in mare che impiegano più tempo per arrivare nei porti di destino.